Ti piacerebbe avere la tua scritta luminosa personalizzata per farti riconoscere e distinguerti? Ciao, sono Umberto di TrackPoint, negozio di accessori estetici per camion. La tua scritta luminosa by TrackPoint la puoi prenotare a LED o con telecomando. Le scritte con telecomando hanno la caratteristica che puoi selezionare diverse funzioni. Con il telecomando hai la possibilità di accedere a diverse funzioni, come ti dicevo, tra cui spegnere la scritta o accenderla, selezionare vari colori, il rosso, il verde, il blu e il bianco o tramite questi altri tastini l'intensità della luminosità. In più hai la possibilità del gioco, facendo così, come vedi, c'è il gioco che può essere cambiato. A tuo piacimento Le scritte a LED si caratterizzano e si distinguono per le diverse luminosità dei LED, come i LED giallo, verde, rosso, blu, bianco, come queste che stai vedendo in questo momento. Ti aspetto il 27 e il 28 maggio a Misano, al weekend del camionista. Sarà un piacere arrivederci o conoscerci. Ciao da Umberto di TrackPoint. Libertà On my track Passo il track poi poi si va Felicità On my track Passo il track poi poi si va